Cosa fai? Come fai? Questo è qua lo zoom Vai prova No E vedi che non è lo zoom? Eh dovrebbe essere però ti Eh dimmi te non fa lo zoom Non lo fa ma così Non lo fa ma fa se non si vede Solo che non si vede Aspettiamo che lì fa l'uomo Eh solo che è buissimo È buio È buissimo Niente adesso ti ho beccata Adesso ti ho beccata bene Su quello che aspetta Ma non imparare Adesso stiamo facendo Ma così si vede che è bellissimo Qua lì poi c'è la luce Si vede il cavallo Vedi perché? Si va bene così Si va bene È un po' più bassa Eh così Perché non lo fai tu? Vedi adesso si incavola che no Sta facendo la cacca L'ha fatta? E anche te se il cavallo era dietro di te Così è bellissimo Così è bellissimo Ecco se stai dove c'è la luce Esce esce decisamente Esce decisamente Ecco da qui puoi prendere Però ti vuoi mettere un po' più lontano Poi prendere il salto Vuoi provare a fare questo Valeria? Eh? A fare questi Sì 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 Sì